Questo gruppo ho sicuramente tanto da imparare e posso migliorare molto, quindi sono pronto per questa avventura, spero di essere pronto. Riccardo Ragni, bentornato a casa allora. Grazie, spero, io sono pronto a dare tanto qui e spero di essere all'altezza di questa nuova avventura. Sono sicuramente entusiasta e spero di imparare molto in questo gruppo. Raccontaci un po' sul piano tecnico che tipo di portiere sei perché sappiamo che con Zeman il portiere classico ha poca fiducia e deve avere caratteristiche ben diverse. Sì, sicuramente con il modulo che c'è, con il tipo di gioco che utilizza il mister c'è bisogno di un portiere particolare perché funge tipo libero. Io sicuramente non ho mai fatto questo tipo di gioco e sto lavorando al massimo per cercare, per imparare diciamo ciò che vuole il mister. Sicuramente c'è un allenatore di un'altra categoria, sicuramente superiore anche alla serie B e spero di poter imparare molto anche da lui e dal mister Mancini. Pregi e difetti di Riccardo Rani? Tecnicamente non sono il tipo da giudicare me stesso perché comunque non sta a me dire certe cose, però posso dire che sono un tipo che non si tira mai indietro e darò il massimo. In conclusione, giovanissimo classe 91 ma già dei campionati importanti alle spalle, ti senti pronto per questa grande occasione? Sì, io sicuramente mentalmente e moralmente mi sento pronto. Piano piano spero di esserlo anche sul punto del lato tattico, diciamo tecnico-tattico. Ci posso dire un breggio morale, alla fine io non ho paura e se mi viene data la possibilità diciamo che non sono il tipo da tirarsi indietro.